Siamo alla prima Arluno Cocktail Fest che si è conclusa e siamo con Cristiano Olivari che è il patron del Gentleman's Cafe, quindi di fatto il teatro di questa manifestazione. Come ci siamo arrivati e se sei soddisfatto di questa competizione? Buongiorno a tutti, assolutamente soddisfatto perché i colleghi hanno risposto molto bene, gli sponsor locali hanno risposto bene. Come ci siamo arrivati? Io ho pensato a questa manifestazione per portare un certo tipo di mixology all'interno di un paese magari un po' più piccolo confronto altri, portare una certa qualità, portare dei drink diversi perché comunque sono arrivati da Mantua, da Courmayeur, da Biella, da Bergamo, da Brescia quindi degli stili comunque differenti e la qualità è stata molto alta. L'abbiamo creata appositamente per dare un tocco di freschezza in un paese un po' più piccolo degli altri quindi l'intento era quello e penso e spero ci siamo arrivati bene. È una prima tappa quindi diciamo importante, cosa vedi nel futuro per la Cocktail Fest e per il Gentleman's Cafe? Per il Cocktail Fest speriamo assolutamente di riproporlo l'anno prossimo con la seconda edizione, inizieremo già da subito magari a lavorarci cercando poi di espandere quello che è stato quest'anno perché era il test, quindi uscito molto bene, tutti contenti, cercheremo di rifare una seconda volta. Per il Gentleman's Cafe qualche piccolo riconoscimento inizia ad arrivare, ne siamo contenti, siamo contenti anche da come risponde la popolazione di un paese un po' più piccolo lavoriamo tanto anche con i paesi vicini e stiamo cercando il più possibile di acquisire la fiducia per dei cocktail magari un po' diversi da quelli che sono abituati perché ovviamente sono abituati magari a bere cose un po' diverse. Noi cerchiamo di spingerci un pochino più là o di portare quello che può essere la nostra idea, bello o brutto che sia, speriamo sempre che possa piacere. Noi ci auguriamo quello perché è un servizio e un lavoro che diamo per accontentare e rendere un momento felice a un cliente, quindi è quello che noi puntiamo e speriamo.